Il rugby non è un sport, è un gioco, altrimenti non lo farei fare ai miei figli. Perché correre in un prato con la palla in mano è sentirsi libero, libero all'interno delle regole. E io penso che questa, alla fine, possa essere l'ambizione di tutti. Rugbyland, viaggio nell'Italia del rugby. Guida spirituale al mondo del rugby. Fatta di interviste, foto, fumetti, osterie, partite e memorabili terzi tempi.